buongiorno a tutti e ben ritrovati sugli schermi di casa del sole tv a parlare oggi di odissea e di eroi e lo facciamo con un'amica una graditissima ospite dei nostri schermi valentina ferranti antropologa e scrittrice buongiorno valentina ciao jeff grazie per questo invito sono molto contenta e grazie un saluto a tutte le persone che ci seguiranno e alla casa del sole che fa sempre un grande lavoro e va sostenuta da tutti i punti di vista grazie grazie dell'appello infatti sosteneteci voi che potete perché lavoriamo insieme a voi e per voi valentina il presidente della repubblica a prescindere dal soggetto che sia che sia è spesso inquadrato davanti a un'opera che si chiama la costituzione cancellata e la voce del nostro telegiornale la bellissima voce del nostro telegiornale luciano roman sarà l'interprete di un'opera teatrale a pompei nei prossimi giorni che si intitola odissea cancellata un'opera che è stata scritta nel 2003 mentre si passava dalle torri gemelle alla guerra in afghanistan in iraq e compagnia cantando noi adesso siamo passati invece a una fase storica in cui i padroni del discorso sembrano determinati a cancellare sia la cultura dei singoli popoli occidentali che i neuroni di un po tutti quanti in un occidente che adesso non è messo così tanto bene ma in passato ha toccato vette sia di cultura che di civiltà adesso tu insieme a Gianluca Marletta avete scritto un libro che uscirà nei prossimi giorni ancora non è in libreria e si intitola odissea la storia di tutte le storie io non l'ho ancora potuto leggere perché non è uscito ma la prima cosa che mi viene da chiederti è perché avete pensato a un libro sull'odissea e perché ritieni che parlare di eroi e di figure mitologiche sia necessario allora andiamo controcorrente in qualche modo siamo dei nuotatori controcorrente ma in questo essere diciamo in questo nuotare controcorrente rimaniamo a galla e parliamo ancora appunto di opere che si vorrebbero cancellare o dimenticare o tantomeno trasformare perché oltre alla cancel culture c'è un'altra via che sta prendendo la deriva che sta agguantando la deriva del mondo postmoderno che è quella di trasformare le opere e adattarle a piacimento del contesto storico e delle mode walk del momento questa operazione probabilmente ancora maggiormente negativa della prima cioè della cancellazione totale perché dico questo perché le grandi opere sapienziali come è appunto il poema omerico l'odissea sono delle perle di saggezza che sono un po dei fari e dei lumi che ci guidano in questa modernità post modernità e il fatto di trasformarle camuffare il messaggio è come mettere dei semi in un terreno e questo terreno è quello soprattutto dei nuovi nati dei bambini delle persone che approcceranno a questi testi sacri perché ripeto testo sia pensale testo sacro e lo leggeranno non in chiave corretta o comunque non come voleva essere letto e come dovrebbe essere letto per comprendere nel vero significato simbolico i simboli cosa sono sono dei fossili culturali sono l'origine sono degli archetipi che non possono essere trasformati ma dobbiamo semplicemente ritrovarne l'origine e proprio lì che sta la luce e anche la possibilità di navigare meglio in questo mondo ritrovando le antiche glorie del passato nessun nostalgismo tra virgolette ovviamente dico nostalgismo ma semplicemente il ritrovare una guida per vivere meglio proprio questa nostra contemporaneità che sta perdendo la rotta e lo diciamo spesse volte jeff quindi siamo in un in un mare abbastanza oscuro dove non si vede riva non si vede un approdo e i testi sapiensali come l'odissea ma anche come la baghava ghita come le neide come la divina commedia e tanti altri ancora il mahabharata eccetera eccetera sono dei testi che ci guidano e che ci sollevano anche da queste pene da questo nulla perché poi se analizziamo il nostro mondo è un mondo che sta andando verso una deriva vuota ci ricordiamo probabilmente ne abbiamo già parlato accennato in in altre interviste il grande il grande libro di michael and la storia infinita che poi è diventato anche un film ma c'è anche momo di michael and che dove parla dei signori grigi del tempo però tornando alla storia infinita verso cosa doveva lottare a treius questo nulla il nulla che avanzava quindi noi siamo in una fase del nulla che avanza ma il nulla non lascia neanche un ricordo di quello che è stato è proprio un'oscurità per cui non c'è neanche più appiglio e quindi questa lotta di questa treius ci sia da da faro anch'essa per non dimenticare le antiche glorie ma anche sai il giusto comportamento dell'essere umano perché qui parliamo di eroi ma di eroi che vogliono essere tutti umani che vogliono che non devono raggiungere il mondo divino ingannando o credendosi dio ma sono degli eroi che accettano la loro avventura umana e questo è il grande insegnamento cioè un essere umano che si vuole migliorare che vuole cercare le alte vette dell'essere che vuole attraverso i suoi sbagli comprendere come comportarsi meglio e accettare la grande sfida in questo però allo stesso tempo un anti eroe perché comunque è un umano che cerca di migliorare quindi casca anche nei tranelli della vita e poi cambia strada assolutamente sì e in questo il mare è proprio questo oceano simbolico in cui si naviga a vista in cui si accettano gli errori si accettano le cadute ma lo si fa sempre mantenendo un obiettivo in caso di odisseo era il ritorno in patria ma anche la conoscenza ed anche l'errore di quella conoscenza del cadere di comprendere di rialzarsi e di tentare di nuovo il mare così come fece lui quindi cosa ci insegna questo se noi guardiamo l'uomo nel mondo post moderno l'obiettivo non c'è quasi più se noi chiediamo ai bambini quali sono i vostri sogni già verso la fase preadolescenziale preadolescenziale o adolescenziale non riescono a rispondere bene a questo cioè si bivacchia anche le creature anche il sogno è ridotto a qualcosa di molto basso sì sì è ridotto proprio ad un ad un qui ed ora che non ha una prospettiva non ha un non è una linea che si si stende verso un futuro possibile migliore c'è una sorta di annilicamento dell'essere un insomma un annichilimento dell'essere per cui non c'è il il tentare il volo c'è un camminare terreno orizzontale e il sogno viene depauperato della sua luminosità e della sua bellezza quindi anche per un bambino per un preadolescente un adolescente riprendere in mano dei testi che parlano di uomini che decidono e accettano la loro natura umana ma la la glorificano la rendono più grande cercano di comprendere anche di conoscere è molto importante ricordiamo anche i versi che dante mette in bocca ad odisseo nati non foste per vivere come bruti ma per seguire virtute e canoscenza eh questo aspetto non viene più più vissuto e questo è un errore perché è un'umanità che si che si perde in questa forma eh un'umanità che tende ad una fine e quindi si è costretti poi a nuotare come i salmoni controcorrente perché altrimenti non si non se ne viene fuori ma è per questo stesso motivo quindi che io non l'ho letto ma ne abbiamo un po' parlato insieme che vi siete concentrati anche sulla distinzione fra figura maschile e figura femminile assolutamente c'è questo stesso atto di cancellazione verso il maschile e femminile in questi ultimi anni che insomma lascia un po' un po' sconvolti sì esattamente è stato molto importante per noi ehm dividere anche gli argomenti da trattare nel libro io mi sono occupata più delle figure femminili e Gianluca più delle degli incontri colisse fa con un ignoto virile cioè quindi con proprio con l'aspetto della vendetta eh l'aspetto del del nostro sa anche della quindi della nostalgia del ritorno eh e abbiamo ritrovato un un odisseo veramente tanto umano e soprattutto anche delle figure femminili che sono sì mostruose ma attenzione a termine mostruose si intende straordinarie e quindi anche grandi maestre dell'uomo odisseo eh che anche grazie a queste figure femminili riuscirà a tornare in patria nella terra dei padri ed è stato importante perché abbiamo proprio condiviso il femminile ed il maschile in quest'opera dividendo proprio i ruoli e anche nella scrittura i ruoli sono molto di molto molto separati anche nella forma stilistica perché io ho una una scrittura più aulica e nonostante Gianluca abbia anche lui una 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 forma aulica di scrittura è molto più incisivo quindi anche qui vediamo una differenziazione proprio delle prerogative del narrare al femminile delle prerogative del narrare al maschile è un'operazione che ci è avvenuta molto naturale eh ma ci siamo resi conto in corso d'opera che era anche fondamentale questa differenziazione dei ruoli ruoli che eh stanno sempre più attraversando un momento di fluidità per cui il maschile e il femminile sono dei paoperati eh delle loro dei loro principi vitali direi proprio e quindi navighiamo sempre a vista in questa confusione per cui potremo salire in una metro a Roma eh nel periodo del prossimo giubileo e vedere la i dipinti mh delle sedute arcobaleno eh e quindi eh tutto sciocci confonde ancora di più l'idea perché non è una scelta individuale ma una scelta collettiva essere gender fluid e quindi un obbligo che ci viene imposto eh da un sistema che ci vuole tutti meno convinti di quello che siamo e sempre in possibilità di un cambiamento per cui io oggi mi posso sentire femmina domani uomo domani un po' e un po' domani gatto e dopo domani cavallo. Sì che è qualcosa appunto che cancella proprio l'identità e quindi cancella cancella l'umanità delle persone si diventa un po' come macchine e infatti si parla di transumanesimo ma secondo la vostra interpretazione dell'odissea la donna che cosa rappresentava nell'odissea? Allora c'è un aspetto che le accomuna tutte divinità ninfe e eh donne in carne e ossa come Penelope ma anche come Elena che ritorna in questo poema straordinario vengono tutti accomunate mh dal dalla filatura e dal canto quindi sono tutte creature che vengono messe in in un in un in un luogo eh che rappresenta in qualche modo eh che ci spiega come in qualche modo la donna sia la filatrice del destino degli uomini e di come l'uomo debba ascoltarle nonostante la loro terribile forma anche mi viene in mente la forma delle sirene. Nell'odissea sono rappresentate tantissime figure al femminile tutte diverse da loro tutte diverse tra loro ma tutte simili ad un unico principio che è il principio femminile che può essere materno può essere terrifico può essere assolutamente seduttivo o può essere della moglie fedele che attende il proprio marito ma che conosce l'astuzia di quell'attesa ingannando i pretendenti ad esempio eh ci sono figure straordinarie come quella di Circe ma anche come quella di Calipso sono tutti archetipi che hanno la capacità di essere descritti in una maniera straordinaria solo una donna potrebbe poteva descriverli in maniera così esatta e così stupefacente e questo ci ha sorpresi a tutte e due eh perché l'odissea c'è veramente il perfetto maschile e il perfetto femminile in tutte le declinazioni faccio un esempio per poter comprendere quando i compagni di Ulisse arrivano a Eea quindi l'isola di Circe la penisola poi no perché noi lo lo collochiamo nel promontorio del Circeo nel Circeo questa riva fantastica eh i compagni di Ulisse entrano in questo in questo luogo fatato dove ci sono bestie feroci ammanzite quindi già si entra in una dimensione altra in una dimensione che sembra un altro mondo anche se poi c'è una collocazione geografica come se si aprissi una porta in un'altra dimensione in qualche modo e i compagni sentono questo canto eh e questa creatura femminile figlia di Elios quindi una divinità non una maga perché poi il termine eh maga subentra con erodoto quindi è successivo nonostante Circe prepara dei filtri eh sentono questo questo canto e eh chiamano a gran voce questa questa creatura femminile lei li invita ad entrare poiché rispetta le 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 regole della xenia le regole dell'ospitalità nell'antica Grecia e questi compagni di Ulisse incominciano a mangiare incominciano a risvegliare questi quelli che sono i bassi appetiti umani quindi non rispettano quel femminile che in qualche modo li ospita e li sta accogliendo e vengono trasformati in maiali mantenendo però la loro mente lucida eh e questo ci dà la dimensione eh di quello che è la la grande prova che Circe mette anche di fronte ad Ulisse ad Odisseo quando lo incontra e vede subito in Odisseo un uomo superiore nonostante Odisseo abbia assunto l'alga Moli che è un'alga che lo 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 preserva dai filtri magici di di Circe però riconosce subito in lui un uomo superiore che non cade nei bassi istinti e questo è eh è veramente interessante per comprendere anche la realtà di oggi dopodiché eh Circe inviterà Odisseo eh nel suo letto ma farà di più per un anno lo istruirà e gli insegnerà come entrare nell'ade percorso iniziatico quindi solamente attraverso una discesa una catabasi l'uomo può diventare veramente un re e quindi ecco che Circe è una maestra per Odisse che noi chiamiamo nel testo lo chiamiamo Odisseo alla alla maniera greca Odissea alla maniera latina quindi eh abbiamo scelto di di chiamarlo Odisseo e quindi ecco che già da questo piccolo esempio eh di descrizione di quello che è il femminile vediamo sia una creatura terribile ma anche una creatura che se l'eroe accetta di ascoltare può molto insegnare. Certo quindi questo dipende dalla nostra volontà di voler di voler interpretare ciò che succede in un modo o in un altro. Sì dipende anche molto dal coraggio dipende anche molto dal coraggio perché è un'altra di quelle cose che abbiamo perso e lo abbiamo visto negli ultimi anni. L'uomo ha perso il coraggio per paura anche la semplice e sacrosanta paura di morire però vediamo un uomo che ha perso veramente quello che è eh l'attitudine alla vita, all'avventura della vita, quella che invece Ulisse ci insegna, ci continua ad insegnare attraverso le sue avventure. Eh questa perdita del coraggio è coincisa anche con un asservimento dell'essere umano perché il coraggio è anche quella forma, quell'attitudine mentale che ci porta a ribellarci perché no eh alle cose che non ci non ci vanno bene e non ci appartengono. In questo il femminile dell'Odissea è una grande guida ed è ehm grande maestra. Tra l'altro eh sono proprio le figure femminili che aiutano Odisseo a salvarsi. Ricordiamo Atena che lo seguirà per tutto il viaggio. Ricordiamo anche il salvataggio di Leucotea, di Ulisse che Naufrago verrà salvato da questa divinità che è un'altra dea madre. Sono tutte sfaccettature di un'unica sapienza femminile. Sapienza femminile che devo dire il femminile ha quasi perso, comunque eh tende a perdere e quindi le donne che leggono questo libro e che rileggono l'Odissea eh spero possano ritrovare un'antica conoscenza del femminile per di nuovo farla propria. Ed è un femminile anche spesse volte materno, non solo che seduce. Vediamo anche nell'accusa no di Calipso come l'amante perfetta, vediamo anche una grande insegnante, vediamo anche mh una donna che ama perché Calipso farà gesti che riguardano proprio eh la moglie eh accende il focolare, nutre eh l'eroe, gli dà del cibro, gli offre del cibro, del cibo anche se poi gli offre l'immortalità che l'eroe rifiuterà proprio perché la sua è una leggenda tutta umana. Quindi Calipso non è solo l'amante o l'amante divina, è molto altro e Omero ci nasconde molte cose, ci fa immaginare quello che successe nell'anno, nei cinque anni o nei sette anni in cui Ulisse resterà ehm con Calipso ma sono tutte delle grandi maestre per per l'eroe. Quindi come dicevi all'inizio questa volontà di cambiare o come minimo cambiare se non cancellare del tutto queste opere, queste opere come l'Odissea e come tutte quelle che hai nominato è perché ci vogliono togliere dei punti di riferimento e forse trasformarci non soltanto tu in passato hai parlato di infantilizzazione ma anche di di persone molto istintive ma con istinti molto bassi. Esattamente l'istinto basso è un istinto di sopravvivenza. Allora c'è una grande differenza tra vivere e sopravvivere. Anche qui c'è di mezzo il coraggio. Assolutamente sì, l'assetto sopravvivenza riguarda gli istinti più bassi che sono il mangiare, il bere, l'avere un letto sotto il quale dormire e avere probabilmente delle cure base per l'essere umano. Vivere è godere della vita, vivere è avere una socialità ricca, vivere è poter progettare un futuro per i propri figli. Se ci fermiamo soprattutto a quest'ultima cosa che ho detto allora mi domando se vivere è progettare anche un futuro migliore per i propri figli, aspetto che è stato spazzato via per la classe media o piccolo media insomma delle famiglie per quanto riguarda le famiglie, allora stiamo sopravvivendo. Ce ne rendiamo conto o non ce ne rendiamo conto che l'assetto sociale economico così come è posto riguarda solamente una sopravvivenza e non è proprio più legato ad un progettare, ad un poter creare una linea generazionale che sia di un certo tipo e di un certo livello per i bambini che ci saranno, per quelli che sono già adolescenti, ma questo è un piano architettato ad arte che ha preso un'accelerazione negli ultimi 30 anni, l'abbiamo detto già in altri nostri dialoghi, ma che adesso è arrivato a un punto che potrebbe essere un punto di non ritorno se non c'è una presa di coscienza su quello che stiamo vivendo, perché poi noi abbiamo visto quello che era il mondo prima di una tecnologizzazione, prima di imporre all'uomo anche una restrizione economica che lo porta poi a sopravvivere e non vivere. Quindi abbiamo visto com'era il mondo prima e possiamo ancora parlarne, ma i nuovi nati non sanno cosa sia un mondo senza uno smartphone, non riescono più a leggere che cos'è la naturalità del vivere e la dignità del vivere, perché poi l'aspetto di sopravvivenza ti porta a non avere più una dignità del vivere e lì si ritorna ad un aspetto animale del vivere, grottesco, proprio come i uomini che Circe trasforma in porci, proprio perché non hanno sublimato, non sono stati in grado di ascoltare, di rispettare e di omaggiare, proprio perché vivono di bassi istinti. Quindi la sopravvivenza è anche vivere di bassi istinti, ma questo aspetto prende tutti gli aspetti, scusate il gioco di parole, dell'essere umano, dal cibo, spazzatura, alla sessualità, mordi e fuggi, al lavoro fatto in una certa maniera dove c'è lo smart working, dove non c'è più una socialità, dove i bambini non godono più dei due mesi, tre mesi di vacanza perché non c'è più la possibilità. All'università fatta col dad, con la dad. Esattamente, e dove ogni cosa assume un aspetto grottesco, ma attenzione alla storia della rana bollita, ce l'hanno data a piccole dosi affinché la assumessimo senza opporci, ma ogni volta che ci distraiamo ci danno un'altra pillola avvelenata e noi caliamo nelle trame. È certo, infatti presa di coscienza che se probabilmente il vostro libro è per questo che credo che sia questa la vostra volontà è di risvegliare le coscienze. D'altra parte se le persone capissero cosa vi circonda non permetterebbero che succedesse o comunque non parteciperebbero a quello che sta succedendo. Mi sbaglio, Valentina. Sì, sono convinta di questo. Sono convinta che c'è la necessità di ritornare a letture sapienziali che poi nelle scuole stanno banalizzando in una forma vergognosa, anche per tornare a ritrovare degli esempi perché Ulisse, così come Nea, così come tanti altri, come Arjuna, come tanti altri personaggi straordinari che vengono descritti e sono archetipi universali dell'aspetto eroico del vivere, ripeto, restando sempre umani e non volendo diventare divini o comunque semmai aspirando alla perfezione divina ma non accettando lo scambio umano-divino così come ha fatto Ulisse, possono essere dei fari che illuminano la via. Il problema è che si vogliono banalizzare queste figure, semplificandole, magari raccontando solamente episodi che possono essere politicamente corretti. Ma questo avviene adesso in tutti gli aspetti delle produzioni artistiche dell'uomo, anche i vecchi film vengono accusati, così come le opere epiche o sapienziali. Tutto viene posto ad una semplificazione perché tra l'altro più si riducono gli argomenti, più si riducono le letture, più si riducono la parola, più si riduce la possibilità di pensiero critico e quindi la possibilità di dire anche no, questo non va bene. Ma questo non si dice più da tanto tempo, cioè ci sono solamente piccoli e sparuti gruppi che in qualche modo stanno comprendendo e comprendono da un bel po' di anni qual era il piano e come il piano sta funzionando. E quindi questo libro vuole essere un punto luminoso, spera di essere un punto luminoso ed anche una lettura simbolica, archetipica e misterica dell'Odissea, perché poi noi abbiamo fatto anche un lavoro di recupero dei simboli ancestrali che ci sono in questo testo e che in questo testo sono rappresentati in maniera quasi totale, devo dire. E quindi questa lettura può essere un ritornare ad un'antica sapienza che sempre più si vuole dimenticare e questo comporta anche il fatto di non sapere dove poggiamo i piedi. C'era Roberto Calasso che parlava di innominabile attuale, anzi è proprio il titolo di un suo libro dicendo di come non si sa più dove poggiamo, su che terreno poggiamo i piedi, perché il terreno è friabile, io direi camminiamo su sabbie mobili pericolosissime e quindi c'è una resistenza che si può fare anche riprendendo in mano antichi testi e rileggendoli e riscrivendo di antichi testi. Non è un lavoro di riduzione, è un lavoro semmai di accrescimento che si fa. Noi siamo assolutamente d'accordo, intendo noi come Casa del Sole, infatti pensiamo che ci sia da fare una forte resistenza soprattutto sul piano culturale adesso perché dobbiamo riacquisire la cultura che abbiamo perso, che non c'è più, dobbiamo riacquisire anche il senso della realtà che abbiamo perso proprio perché camminiamo nelle sabbie mobili e camminiamo anche verso una guerra, quindi dobbiamo fare in modo di capire chi siamo e dove vogliamo andare. Questo fa il paglio anche con la confusione tra realtà e finzione e questo voi lo sapete bene, nella lotta all'informazione corretta, alla maggioranza della popolazione vengono inoculate notizie non veritiere o vengono omesse notizie affinché la narrazione sia cuscita in maniera esemplare per far credere quello che si voglia far credere. Il problema anche della confusione tra realtà e finzione, quindi tra notizie false e notizie invece saggiamente riportate riguarda anche quello che ci aspetta in futuro, ovvero ne abbiamo parlato anche l'intelligenza artificiale e quindi la possibilità che immagini, personaggi, notizie vengano inventate dal nulla e questo comporterà ancora di più il cadere nel tempo del caos. Ora cos'è il caos? È la confusione estrema, il non ordine e la tenebra in contrapposizione con la chiarezza e con la luce e con l'ordine, perché poi l'ordine cos'è? È la chiarezza del vivere anche. Tutte le civiltà producono i loro miti cosmologici partendo proprio dall'ordinamento della realtà, col dare il nome alla realtà, il dare il nome alle cose che compongono la realtà, ritornando al discorso che facevi prima, uomo e donna sono due di queste categorie oppositive che vengono decise in illo tempore e questo anche viene messo in discussione, cioè adesso si parla proprio del paradosso del mettere in discussione la natura umana nella sua semplicità. Quando viene toccata la natura umana si entra proprio nell'appunto come citavi tu prima nel pericolo transumanista che non è solamente come qualcuno ci vuole far credere risorsa perché potenziale umano, ma è un mondo prometeico e difficilmente riusciremo a tornare indietro e poi c'è la questione appunto l'orlo del precipizio, siamo vicinissimi a una terza guerra mondiale, è come se l'uomo fosse affetto da cecità, guarda in una diretta su Levante con Margherito ha proprio citato cecità di Saramago, questo vedere bianco ma anche questa lotta tra chi poi è stato colpito da questa cecità, quindi invito tutti a rileggere quel testo, tra l'altro anche Axelie schisse qualcosa sulla vista, adesso non ricordo bene il titolo però anche lui si occupò del concetto del vedere e della vista, quindi è molto significativo perché poi a ben pensare è come se un velo fosse caduto sugli occhi delle persone e quindi anche nelle menti, se ci può risvegliare l'epica, se ci può risvegliare la natura allora accettiamo questa sfida, ovviamente per risveglio non intendo i risveglioni ma intendo un procedimento di attenzione verso il nostro mondo reale e di ritrovata analisi critica verso quello che sta succedendo. Difficilissimo perché la temperatura in cui siamo immersi come rane bollite è veramente a livelli abbastanza elevati. Siamo prima dell'abolizione. Sì, siamo prima dell'abolizione, cerchiamo di spengere il poco a tutti i costi Valentina e in tutti i modi. Grazie, grazie del vostro libro e grazie della tua intervista e della tua partecipazione di oggi Valentina. Grazie a te Jeff, grazie. Grazie e poi magari torneremo anche sopra il libro e so che stai fra l'altro scrivendo il secondo volume di un tuo altro libro che era Amtara, scritto durante i bellissimi anni 2020-21, l'anno Sorribilis 2020, credo, come lo chiamiamo. In realtà è scritto prima e pubblicato durante proprio il primo anno della pandemia e tra l'altro ritorno ad Amtara con l'editore NPE decidemmo di scrivere che ogni riferimento ai fatti attuali era frutto dell'immaginazione dell'autrice proprio perché ci sono delle cose che poi sono abbastanza ritornano per quanto riguarda quello che abbiamo vissuto e adesso si sto correggendo il secondo volume che si chiamerà Il Sacro Nucleo di Amtara. Quindi torneremo a parlare anche del secondo volume del tuo libro appunto. Grazie davvero Valentina e buon lavoro. Grazie a tutti voi anche per averci seguito, continuate a farlo e ci vediamo più tardi stasera alle 19 con il nostro telegiornale, alle 19.30 con la nostra diretta con il direttore Margherita Furnan. Buon proseguimento a tutti e buona fortuna.